Eccoci, segretaria, Alexander Iachnagia, Fagenzia Vista. Io le volevo chiedere, lei pensa che possa essere utile un incontro faccia a faccia con Giorgia Meloni per parlare di tutti questi temi? Auspica un incontro con la Premier, magari non nell'immediato, ma diciamo in questi mesi? Altra questione che era certamente, se ci saranno, ma non ho finito la frase, per cui... Ah sì, ok, giusto, grazie. Dunque, se ci saranno, sicuramente se ci saranno delle occasioni in cui è utile confrontarsi anche personalmente, io sono disponibile, anzi è probabile, è possibile che questo accada, dopodiché tanti sono i temi, come vedete, su cui ci sarà un confronto tra la maggioranza, tra chi guida il governo e l'opposizione, ma mi sembra anche naturale, diciamo, in un ordinamento democratico che ci sia, ecco, questo confronto, per cui non ci vedo niente di male. Grazie mille.